Poeto, sempre pieno e assicurato, anche oggi domenica 26 febbraio, che il calendario segna ancora come pieno inverno, ma a Cagliari si sa, quella stagione lascia pochi indizi. A mezzogiorno, in una giornata appunto semi-primaverile e un po' affosa, tanta gente si è riversata in quella striscia fattata per i cagliaritani chiamata Poeto, a correre in bici a piedi o a passeggiare. La spiaggia è ancora invasa dalle alghe, per cui la tradizionale passeggiata lungo la battigia era impedita, ma in tanti non hanno rinunciato a camminare sulla sabbia oltre le alghe o a sbagliarsi per catturare i raggi del sole, semi nascosti però dalle nuvole. Il mare era piatto, il vento assente, con barchi a vela e windsurf sonnolenti, con le vele sgonfie. Baretti invasi della mattina e sicuramente molti saranno rimasti a consumare un pasto veloce ma distensivo davanti alla spiaggia nelle terrazze apposite. Insomma, basta che non piova e la gente, tutti i giorni, ma in questo periodo, specialmente sabato e domenica, guadagna il litorale dei 100.000 per passare qualche ora in serenità. Un poeto nuovo che piace sempre più e che permette a corridori, passeggiatori, ciclisti e patinatori di convivere tranquillamente, pur con qualche problema, ma sempre all'insegna della tolleranza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.